I primi resoconti che abbiamo sulle speculazioni dei filosofi circa la costituzione della materia che ci circonda risalgono all'antica Grecia. Tutti gli studenti conoscono la teoria di Democrito di Abdera. Democrito credeva in Dio e riteneva che tutte le azioni sulla materia proverissero dall'esterno o meglio dall'alto. Gli atomi da egli ritenuti indivisibili e i più piccoli costituenti della materia erano immobili se nessuna forza applicata avesse variato la loro posizione. Queste tesi venivano contrapposte da Epicuro di Samo che riprendendo le tesi di Democrito riteneva gli atomi fluttuanti. Epicuro riteneva che le forze provenissero dall'interno dell'atomo e che la materia non era separabile dal movimento. Gli atomi subivano delle fluttuazioni che lui chiamava cliname. Nei secoli successivi i vari alchimisti rafforzarono le tesi epicuree considerando che la materia era viva e la presenza dell'anima poteva perfino essere concepita come esistente all'interno della materia inerte. Tutte queste congetture si dissolsero alla fine del 1600 in quanto i pensieri di alcuni principali filosofici e scienziati di quel secolo imposero alla storia le loro tesi luministiche. L'inglese Francesco Bacone, il francese Cartesio, Robert Boyle ed altri furono i principali sostenitori del metodo scientifico moderno che cominciava a svilupparsi proprio in quel periodo. La Royal Society e la Chiesa d'Inghilterra si opposero tenacemente contro i sostenitori della materia non inerte. Le teorie sull'atomo indivisibile di Democrito furono riprese nel 1808 quando il fisico inglese John Dalton formulò la sua teoria atomica. La materia è formata da atomi piccolissimi indivisibili e indistruttibili. Gli atomi non possono essere né creati né distrutti. Gli atomi di un elemento non possono essere convertiti in atomi di un altro elemento. Questi erano i principi basilari della teoria atomica nel secolo 800 ma tuttavia le esperienze di elettrostatica e la pila di Alessandro Volta che veniva scoperta proprio all'inizio secolo mostravano che negli atomi dovevano necessariamente esserci dei costituenti. All'interno degli atomi dovevano essere presenti corpuscoli carichi elettricamente. Questi corpuscoli dovevano essere di due tipi. Si parlava quindi di cariche positive e di cariche negative. Lo stesso Alessandro Volta suppose, sbagliando, che la corrente elettrica poteva essere spiegato con un flusso di particelle cariche positivamente. In fondo Volta sbagliò solo l'identità elettrica della particella che proveniva giusto appunto dall'interno dell'atomo. Per giustificare tutti questi fenomeni era segno che all'interno della materia dovevano presentarsi queste due contrapposte entità materiali. L'atomo non era più un'entità indivisibile ma era costituita da parti più piccole. Nascevano le particelle subatomiche. I fisici si chiesero come poteva essere costituito un atomo e come queste particelle potevano essere disposte. Verso la metà del secolo 800 numerosi scienziati, fra cui Pluker, Goldstein, Krux, studiarono il comportamento della corrente elettrica nei gas rarefatti. Costoro compresero esattamente che tutti quei fenomeni che osservavano attraverso quelle scariche luminose che si producevano all'interno delle loro ampolle erano determinate dalle cariche elettriche che fuoriuscivano dall'interno degli atomi del gas. Già nel 1785, cioè grazie agli studi di Charles Augustin Coulomb, si conoscevano le leggi empiriche che permettevano di quantificare i fenomeni elettrici e quindi di calcolare il valore delle cariche elettriche. Ma qual era il valore delle cariche elettriche presenti negli atomi? Una parziale ma fondamentale risposta viene dal fisico Joseph John Thompson nel 1879 quando tramite un turbo termoionico opportuno riuscì a calcolare il rapporto carica-massa di una particella presente all'interno degli atomi. Thompson concentrò tutta la sua attenzione alla particella negativa che si era presente negli atomi. Più tardi questa stessa particella fu chiamata con il nome di elettrone dal fisico irlandese Stoney. L'esperienza di Thompson faceva uso di un tubo termoionico nel quale un fascio di cariche negative, appunto un raggio catodico, veniva deviato secondo una determinata traiettoria. A questo punto veniva misurato il raggio di curvatura geometrico e poiché erano perfettamente noti le leggi matematiche che relazionavano la velocità del fascio con la tensione di alimentazione delle placchette, si conosceva il valore dell'induzione magnetica applicata per ottenere la deflissione, si poteva determinare il rapporto carica-massa della particella elettrone. Dai risultati dell'esperienza che condusse Thompson nel 1897 emerse che il rapporto carica-massa dell'elettrone era di circa 1.7 per 10 alla ottava coulomb su grammi. Di conseguenza la particella chiamata elettrone era dotata di una piccola massa e di una grande carica elettrica. Thompson ipotizzò che gli atomi potessero essere costituiti da un involucro sferico dotato di carica positiva distribuita nel quale, identicamente ai canditi e all'uva passa di un panettone, gli elettroni negativi prendevano le posizioni più casuali all'interno di questo volume. Ma questo modello atomico a panettone non durò troppo a lungo. Per determinare la carica elettrica dell'elettrone fu necessario aspettare alcuni anni, infatti solo nel 1909 il fisico americano Robert Millikan riuscì con un ingegnoso apparato sperimentale a calcolare la carica elettrica della particella. Il valore della carica elettrica che oggi attribuiamo all'elettrone è di circa 1.602 per 10 alla meno diciannovesima coulomb, quindi circa un miliardesimo di miliardesimo di coulomb. Avendo a disposizione la relazione precedente, cioè quella trovata tramite l'esperimento di Thompson che lega la carica e la massa, a questo punto fu possibile determinare la massa dell'elettrone che risultò particolarmente piccola. La massa dell'elettrone risultò infatti pari a 9.11 per 10 alla meno ventottesima grammi, cioè non un miliardesimo di miliardesimo, ma la cifra di un decimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di grammo. Nel 1911 in Inghilterra intanto lo scienziato Ernest Rutherford fece un esperimento molto importante. Utilizzando una fonte di particelle alfa, che i fisici di allora già sapevano costituita da nuclei di elio, borbandò una lamina d'oro sottilissima che aveva uno spessore di poche decine di atomi d'oro. All'estremità opposta della lamina veniva posizionato uno schermo fluorescente che rilevava le traiettorie delle particelle alfa grazie alla comparsa di piccoli spot luminosi che si osservavano sulla sua superficie. La frequenza delle particelle alfa rilevate lungo la direzione frontale del fascio era molto elevata. Anche se il dispositivo presentava sporadiche rilevazioni su angoli più ampi, la maggior parte delle particelle alfa veniva rilevata esattamente lungo l'asse centrale. Questo comportamento avrebbe avuto un'esoriente spiegazione soltanto ipotizzando che l'atomo doveva essere costituito prevalentemente da spazi vuoti anziché da spazi pieni. A questo punto Rutherford e la comunità dei fisici di inizio secolo 900 ipotizzarono per l'atomo un modello tipo planetario. Era plausibile che la carica positiva risiedesse nel nucleo dell'atomo e fosse costituita da protoni massivi. Gli elettroni invece piccolissimi ma con la stessa carica dei protoni anche se elettricamente invertita occupassero traiettorie circolari esterne. Anche questo modello però quasi da subito a causa dei risultati di alcuni esperimenti presentò delle incongruenze per cui i fisici atomici dovettero approfondire lo studio per trovare un modello più confacente. Il seguito di questa breve ed elementare discussione sarà esaminato quando potremo visionare il prossimo documentario. Arrivederci